È un grande piacere poter portare il mio saluto, il mio augurio di un lavoro proficuo ai partecipanti autorevoli del panel di oggi. La tematica che si affronta in questa discussione sotto il grande tema di quando le crisi, quando il silenzio uccide, quando le crisi non vengono sufficientemente portate all'attenzione dell'opinione pubblica e della coscienza collettiva, è un tema di grandissima rilevanza. Mi fa piacere essere stato invitato ad esprimere alcune considerazioni iniziali sul punto di vista della farnesina e sull'assoluta convinzione che ho dell'importanza non soltanto della comunicazione tradizionale, ma anche delle forme di comunicazione innovativa attraverso la grande agora dei media e dei contributi che si sviluppano sul web ogni giorno, vorrei dire ogni minuto. Quando il silenzio uccide è una realtà che abbiamo vissuto nella nostra storia recente e meno recente, l'abbiamo vista nelle manifestazioni che hanno portato a compimento perlomeno quella prima grande fase di rivolgimenti politici e sociali delle primavere arabe, ma l'abbiamo vista ancora in modo fortemente drammatico ed evidente in alcune crisi più lontane, quali quelle, e vorrei riferirmi in questo momento soprattutto alla crisi del Rwanda, il grande terribile genocidio, uno dei più grandi genocidi della storia del dopoguerra, che ha colpito quel paese nella regione dei grandi laghi nell'aprile del 1994, quando dopo l'assassinio del presidente Juvenal Abiyaramana di etnia Utu, eletto democraticamente al potere da tempo, ecco l'uccisione innescò un conflitto interetnico terribile e improvviso per il quale in soli 100 giorni morirono quasi un milione di persone. Ecco vorrei riferirmi a questo perché mi sembra un episodio fortemente indicativo di come il silenzio che era rimasto nella grande stampa, nei grandi mezzi di comunicazione mondiali, nelle prime fasi di questa vicenda terribile iniziata il 6 aprile del 1994, fu un motivo di paralisi nelle reazioni della comunità internazionale e alcune spiegazioni che furono date all'epoca, in particolare la impossibilità per i grandi network, per o meno per alcuni di loro, di concentrarsi contemporaneamente su due vicende epocali della storia africana, perché proprio in quei giorni, nei giorni dell'aprile, arrivava finalmente al potere in Sudafrica attraverso un'elezione democratica, liberatoria di tutta la storia dell'apartheid, arrivava la presidenza Nelson Mandela, ecco la scelta fu di concentrare una narrativa su alcuni aspetti così positivi e così straordinari della storia di quel continente per aspettare di vedere cosa sarebbe accaduto in una situazione nella quale si vedevano già tutte le radici di una grandissima drammaticità, ma che ancora non era ben definita, ben interpretata nei contorni. E fu così che vi si diede campo libero a una martellante propaganda di odio, di annientamento, ricordo ad esempio il ruolo avuto da Radio Milcolin, la radio francofona di etnia degli estremisti Utu, che incoraggiava ora per ora ad agire, ad attaccare, ad attaccare in modo terribile, a colpi di macete, all'arma bianca, i vicini di etnia diversa. Ecco, racconto questo episodio perché è eccentrico rispetto al tema che stiamo discutendo oggi, ma che dimostra, secondo me, in modo efficace quanto null'altro, il problema delle scelte nel grande campo dell'informazione e come queste scelte talvolta, ed appunto quello che è il tema del convegno, talvolta siano fortemente negative per orientare le opinioni pubbliche e di conseguenza le priorità dei governi e del mondo della politica. Ora, questi episodi, in modo forse meno drammatico, meno storicamente eclatante, si sono ripetuti spesso negli anni. E ne vediamo ancora oggi, a mio giudizio, la dimostrazione quando, in alcuni passaggi di questo straordinario percorso che riguarda l'evoluzione democratica dei paesi del mondo arabo, un'evoluzione positiva e molto promettente in Tunisia, Libia, Egitto, che sta avendo dei risultati di stabilizzazione in Yemen, che ci auspichiamo poter portare degli sbocchi e un respiro di democrazia anche e soprattutto nei paesi del Golfo. Ecco, questo percorso che invece si sta scontrando contro un muro di resistenza dogmatica e atroce nel regime siriano, appunto in Siria vi sono delle storie che dovrebbero, a mio giudizio, essere meglio e più diffusamente raccontate. Sappiamo che vi sono dei blocchi all'informazione, della non capacità di accesso, ma mi ha colpito proprio in queste ore leggere alcuni episodi di giornalismo investigativo che hanno potuto portare una luce di verità su alcune asserzioni del regime completamente false quanto alla responsabilità degli eccidi che sono avvenuti qualche mese fa a OMA, a OMS, e che hanno visto la morte atroce di intere famiglie, di bambini e di innocenti. Quindi un altro esempio di quanto non soltanto il giornalismo tradizionale, l'opera svolta dai grandi corrispondenti e anche spesso eroici protagonisti della grande stampa e dai media internazionali, ma anche quella capacità di informazione fatta spontaneamente da una moltitudine di appartenenti alla società civile, di bloggers, di persone che fanno questa attività per una vocazione personale o anche semplicemente casualmente quanto questa attività sia fondamentale per far uscire dal cono d'ombra delle crisi regionali o anche semplicemente delle situazioni specifiche che possono e devono far cambiare e far maturare l'opinione della gente. Ecco, mi sembra che questo sia il grande obiettivo anche di una discussione come quella di oggi, il grande obiettivo che tutti noi dovremmo porci nelle nostre rispettive responsabilità con un'attenzione specifica anche ai valori positivi che non sono sufficientemente descritti. Oggi è la presentazione dell'ottavo rapporto di Mersenne Saint Frontier, una grande organizzazione alla quale va un mio segno forte di ammirazione per l'opera straordinaria che svolgono, ma come loro vi sono sui terreni più difficili e più insidiosi della realtà internazionale tantissime organizzazioni, fra queste se ne annoverano molte di italiane, che in sul Sudan, nel corno d'Africa, anche nei paesi che hanno oramai compiuto i percorsi di pace, di stabilità rispetto a situazioni che li avevano invece coinvolti in guerre civili, in contrasti e in conflitti con i paesi vicini, immagino a corno d'Africa, soprattutto all'Etiopia, ma a quello che sta avvenendo con una stabilizzazione promettente sul piano politico del processo di Garowe in Somalia, ecco in tutti questi paesi vi sono delle realtà formidabili, di cooperanti italiani, di organizzazioni religiose, laiche, di individui, di laici e di uomini di fede, che si dedicano alla riattivazione dei servizi sociali, all'educazione, alle scuole, all'istituzione ad esempio di guardie mediche permanenti, o all'assicurazione dell'infanzia sotto il profilo dell'eliminazione della mortalità infantile. Ecco, cito questi esempi perché sono tipici di una capacità italiana e delle organizzazioni italiane di essere presenti e di tracciare delle storie positive, storie che ancora, secondo me, devono emergere, perché fanno vedere come vi sia una metà del mondo sotto il cielo che è guidata da valori fondamentali e che sono l'ispirazione del nostro futuro e dei nostri giovani. Grazie a tutti.